METI E DINTORI METI E DINTORI E quante anfore dentro vi sono, si colmino tutte e dalla maglia una bella focaccia giù scivoli sempre, fatta di fina farina condita di sesamo e miele. Il canto attribuito ad Omero, in Vita di Omero, di uno pseudoerodoto, risale al VI secolo a.C. I giovani che cantano portano in mano un Eiresione, cioè un ramoscello di olivo adorno di bende di lana e primizie. Il nome sembra collegarsi a Eirene, una delle ore, dea della pace, raffigurata come una giovane che avanza tenendo in mano un ramoscello di olivo. L'ulivo è il dono stupendo che la dea Atena ha fatto al popolo dell'Attica. Atena è nata da poco dalla testa di Zeus, sì, proprio dalla sua testa. Il re degli dèi ha avuto una terribile cefalea e si è fatta aprire il cranio da Efesto, un altro dio, piuttosto brutto ma assolutamente ingegnoso e perfetto artigiano, la cui officina si trova nell'Etna. Bisogna fare un piccolo passo indietro. Quando Zeus ha avuto bisogno di aiuto nella contesa con suo padre e compagni, ha fatto ricorsa ai consigli di Metis, splendida quanto saggia dea che gli ha dato le dritte su come comportarsi. Metis è l'essenza della saggezza congiunta all'astuzia, ecco lei che sa e sa fare. I due dèi si sposano, lei rimane incinta già la prima notte di nozze. Felice lo sposo, insomma, è ossessionato dal timore di essere spodestato da un figlio maschio, cosa ricorrente nella sua famiglia e in più ha bisogno di impadronirsi dell'arguzia della moglie. Ma è un bisogno tremendo, quindi la fa sua, nel senso che se l'ha inghiotte, Metis è incinta e così il feto cresce nel capo del capo. Non è un maschio di più, è femmina ma nasce armata di tutto punto. È femmina ma ha la saggezza della madre, è bella ma non si cura delle passioni amorose, anzi si interessa alle contese belliche e protegge i guerrieri. Comunque appena nata ha bisogno di apparenza, di un tempio, una città di elezione. La regione dell'Attica le sembra un'ottima soluzione, solo che piace tanto pure a Poseidone. Il re del posto deve decidere a chi dare la preminenza e aspetta davanti a quei due. Poseidone afferra il suo tridente e lo conficca per terra, ne scaturisce una fonte di acqua salata e capirai. Qualche poeta dice che invece ne nasce un cavallo, che forse il cavallo utile senz'altro, ma Atena tocca il terreno con la punta della sua lancia nuova nuova e spunta un cespuglio dalle piccole foglie verdi argente con tante piccole bacche scure, un olivastro o un olivo. Vabbè, pensa forse Poseidone, con tanti alberi che ci sono, sai che cambia? Invece il re Cecrope, mezzo uomo e mezzo serpente, ci pensa su e decide che Atena è la vincitrice, perché ha regalato all'Attica un tesoro, un tesoro che fa parte della natura. Infatti, Cecrope, che sembra sia arrivato dall'Egitto, ama la natura. Il fatto che sia serpente per metà indica la sua appartenenza alla terra, elemento che l'uomo deve coltivare sapientemente. Infatti, lui riesce a trasformare gli attici selvaggi che vivono nei boschi in stanziali agricoltori, che riusciranno a curare le piante di olivo e trarne il tesoro naturale. L'olivo selvatico diventa l'olivo che noi conosciamo e che, grazie alle cure pazienti e sapienti dell'uomo ormai sapiens, fornisce l'olio dorato, olio che nutre, che cura, che abbellisce, che illumina, che consacra. L'olivo primordiale di Atena è considerato naturalmente sacro e guai a chi provi a danneggiarlo. Attorno ad esso vengono edificati il Tempio dedicato alla Dea e la città di Atene. Del legno d'olivo si serve spesso Ulisse, che, tra l'altro, è protetto proprio dalla Dea, con la quale ha un rapporto particolarmente stretto. Ulisse usa un ramo di olivo opportunamente appuntito per accecare Polifemo. Di olivo è il manico della scure con cui taglia alberi e prepararsi per costruire l'imbarcazione, allorché lascia l'isola di Calipso per cercare di tornare ad Itaca. Ma, soprattutto, di un ceppo di olivo ha fatto il suo letto nuziale, che condivide con Penelope, costruendo tutto intorno la camera. Inoltre, con olio di oliva, si unge dopo il bagno, dopo l'incontro con Nausicaa e quando ritorna ad Itaca. Questo è il mito greco. Ma l'olivo è, in realtà, conosciuto ben prima della civiltà greca. Ce ne parlano reperti archeologici, come frantoi, fabbriche di unguenti, tavoletti di creta con iscrizioni in lingua sumerica, poi accadica, cioè semitica, e libri sacri. Il primo seno a riguardo è, a tutt'oggi, nell'epopea di Gilgamesh, la più antica opera letteraria dell'umanità in lingua sumerica. Fu rimaneggiata e sistemata in cinque poemi dagli assiro babilonesi. Risale almeno 4.000 anni fa e precede l'Antico Testamento. Gilgamesh, per due terzi dio e un terzo uomo, è diventato re di Uruk in Mesopotamia, culla delle civiltà del Mediterraneo. Ha trovato l'amico più prezioso nel selvaggio Enkidu, che lo sostiene in tutte le sue imprese, fino al momento della morte causata dalla maledizione di una dea. Gilgamesh intona un canto funebre in onore dell'amico. Ne ricorda il coraggio, il legame con gli animali che tutti lo piangono, come anche piangono gli alberi, i sentieri e i fiumi. Tutto il popolo piange per te, o Enkidu. Coloro che ti portarono grano da mangiare, sono ora il lutto per te. Coloro che strofinarono olio sulla tua schiena, sono ora il lutto per te. Coloro che ti versarono birra da bere, sono ora il lutto per te. La prostituta che ti unse di unguenti odorosi, eleva ora la menti per te. Viene dunque citato l'olio che fortifica e abbellisce le membra, nonché l'unguento profumato. Di scorte di olio parla anche, nella stessa epopea, Utnapistim, che è il saggio risparmiato dal diluvio universale insieme ai suoi cari e alle varie specie di esseri viventi, che precede di gran lunga Noè. Una volta pronta l'arca, Utnapistim si unge il capo di olio, quasi una consacrazione. Gli archeologi hanno trovato sia in Mesopotamia che in Egitto frantoi millenari che alloggiavano all'interno anche congegni in pietra per la produzione di unguenti a base di olio di oliva e erbe profumate. Nell'Antico Testamento, la cui composizione sembra risalire all'epoca della cattività babilonese o addirittura al X secolo a.C., troviamo molte citazioni dell'olivo e dell'olio. La più famosa è quella della colomba che torna sull'arca di Noè con un ramoscello di olivo nel becco, segno che le acque del diluvio stanno refluendo. Nel Nuovo Testamento, Gesù è accolto a Gerusalemme da una folla che sventola rami di olivo e di palma. Ma sulla presenza dell'olivo nella Bibbia si potrebbe parlare per ore. Perciò rimandiamo ad altri incontri le considerazioni sulle caratteristiche di questa pianta meravigliosa, tenace che resiste alla siccità e alla tempesta, che si contenta di un terreno pietroso che difende con le sue radici. Lasciato crescere in alcune regioni con la chioma libera e alta, oppure potato con i rami tesi verso il basso per rendere più facile la raccolta dei frutti. L'albero che caratterizza l'area mediterranea resta nei nostri cuori e nei nostri pensieri come simbolo di pace, di luce, di salute e di bellezza. L'albero che caratterizza l'area mediterranea resta nei nostri pensieri